ad alta voce alessandro benvenuti legge i promessi sposi di alessandro manzoni qui tra i poveri spaventati troviamo persone di nostra conoscenza chi non ha visto don abbondio il giorno che si sparsero tutte in una volta le notizie della calata dell'esercito del suo avvicinarsi e dei suoi portamenti non sa bene cosa sia in piccio e spavento vengono sono 30 sono 40 sono 50.000 sono diavoli sono ariani sono anticristi hanno saccheggiato corte nuova hanno dato fuoco a prima luna devastano introbbio pasturo barsio sono arrivati a balabbio domani son qui tali erano le voci che passavano di bocca in bocca e insieme un correre un fermarsi a vicenda un consultare tumultuoso un'esitazione tra il fuggire il restare un radunarsi di donne un metter le mani nei capelli don abbondio risoluto di fuggire risoluto prima di tutti e più di tutti vedeva però in ogni strada da prendere in ogni luogo da ricoverarsi ostacoli insuperabili e pericoli spaventosi come fare esclamava dove andare i monti lasciando da parte la difficoltà del cammino non erano sicuri già s'era saputo che i lanzichenecchi vi si arrampicavano come gatti dove appena avessero indizio speranza di far preda il lago era grosso tirava un gran vento oltre di questo la più parte dei barcaioli temendo ad essere forzati a tragittare soldati o bagagli si erano rifugiati con le loro barche all'altra riva alcune poche rimaste erano poi partite stracariche di gente e travagliate dal peso e dalla burrasca si diceva che pericolassero ogni momento per portarsi lontano e fuori della strada che l'esercito aveva percorrere non era possibile trovare né un calesse né un cavallo né alcun altro mezzo a piedi don abbondio non avrebbe potuto far troppo cammino e temeva di essere raggiunto per istrada il territorio bergamasco non era tanto distante che le sue gambe non ce lo potessero portare in una tirata ma si sapeva che era stato spedito in fretta da bergamo uno squadrone di cappelletti il qual doveva costeggiare il confine per tenere in suggezione i lanzichenecchi e quegli erano diavoli in carne né più nemmeno di questi e facevano dalla parte loro il peggio che potevano il povero uomo correva stralunato e mezzo fuori di sé per la casa andava dietro a perpetua per concertare una risoluzione con lei ma perpetua affacendata a raccogliere il meglio di casa e a nasconderlo in soffitta o per i bugigattoli passava di corsa affannata preoccupata con le mani o con le braccia piene rispondeva or ora finisco di metter questa roba al sicuro e poi faremo anche noi come fanno gli altri don abbondio voleva trattenerla e discutere con lei vari partiti ma lei tra il da fare e la fretta e lo spavento che aveva anch'essa in corpo e la rabbia che le faceva quello del padrone era in tal congiuntura meno trattabile di quel che fosse stata mai si ingegnano gli altri ci ingegneremo anche noi mi scusi ma non è capace che di impedire crede lei che anche gli altri non abbiano una pelle da salvare che vengono per far la guerra a lei soldati potrebbe anche dare una mano in questi momenti invece di venire tra i piedi a piangere a impicciare con queste simili risposte si sbrigava da lui avendo già stabilito finita che fosse alla meglio quella tumultuaria operazione di prenderlo per un braccio come un montagna lasciato così solo s'affacciava la finestra guardava tendeva gli orecchi e vedendo passare qualche d'uno gridava con una voce e mezza di pianto e mezza di rimprovero fate questa carità al vostro povero curato di cercargli qualche cavallo qualche mulo qualche asino possibile che nessuno mi voglia aiutare che gente aspettatemi almeno che possa venire anch'io con voi aspettate d'essere 15 o 20 da condurmi via insieme che io non sia abbandonato volete lasciarmi in man dei cani non sapete che sono luterani la più parte che ammazzare un sacerdote l'anno però per ameritoria volete lasciarmi qui a ricevere il martirio che gente che gente ma a chi diceva queste cose ad uomini che passavano curvi sotto il peso della loro povera roba pensando a quella che lasciavano in casa spingendo le loro vaccherelle conducendosi dietro i figli carichi anch'essi quanto potevano e le donne con incollo quelli che non potevano camminare alcuni tiravano di lungo senza rispondere né guardare in su qualche d'uno diceva e messere faccia anche lei come può fortunato lei che non ha da pensare alla famiglia sa iuti se ingegni o povero me esclamava don abbondio che gente che cuori non c'è carità ognuno pensa a sé e a me nessuno vuol pensare e tornava in cerca di perpetua o appunto gli disse questa ai danari come faremo li dia a me che andrò a sotterrarli qui nell'orto di casa insieme con le posate ma è ma ma dia qui tenga qualche soldo per quel che può occorrere poi lasci fare a me don abbondio ubbidì andò allo scrigno cavò il suo tesoretto e lo consegnò a perpetua la quale disse posso otterrarli nell'orto a piede del fico e andò ricomparve poco dopo con un paniere dove c'era della munizione da bocca e con una piccola gerla vuota e si mise in fretta a collocarvi nel fondo un po' di biancheria sua e del padrone dicendo intanto il breviario almeno lo porterà a lei ma dove andiamo dove vanno tutti gli altri prima di tutto andremo in strada e la sentiremo e vedremo cosa convenga di fare in quel momento entrò agnese con una gerletta sulle spalle e in aria di chi viene a fare una proposta importante agnese risoluta anche lei di non aspettare ospiti di quella sorte sola in casa com'era e con ancora un po' di quell'oro dell'innominato era stata qualche tempo in forse del luogo dove ritirarsi il residuo appunto di quegli scudi che nei mesi della fame le avevano fatto tanto pro era la cagion principale della sua angustia e della sua irresoluzione per aver essa sentito che nei paesi già invasi quelli che avevano danari si erano trovati a più terribili condizioni esposti insieme alla violenza degli stranieri e alle insidie dei paesani era vero che del bene piovuto le come si dice dal cielo non aveva fatta la confidenza a nessuno forché a don abbondio dal quale andava volta per volta a farsi spicciolare uno scudo lasciandogli sempre qualcosa da dare a qualche uno più povero di lei ma i danari nascosti specialmente chi non è avvezzo a maneggiarne molti tengono il possessore in un sospetto continuo del sospetto altrui ora mentre andava anch'essa rimpiattando qua e là la meglio ciò che non poteva portare con sé e pensava agli scudi che teneva cuciti nel busto si rammentò che insieme con essi l'innominato le aveva mandate le più larghe offerte di servizi si rammentò le cose che aveva sentito raccontare di quel suo castello posto in luogo così sicuro e dove a dispetto del padrone non potevano arrivarsi non gli uccelli e si risolvette ad andare a chiedere un asilo lassù pensò come potrebbe farsi conoscere da quel signore e le venne subito in mente don abbondio il quale dopo quel colloquio così fatto con l'arcivescovo le aveva sempre fatto festa e tanto più di cuore che lo poteva senza compromettersi con nessuno e che essendo lontani due giovani era anche lontano il caso che a lui venisse fatta una richiesta la quale avrebbe messa quella benevolenza a un gran cimento suppose che in un tal parapiglia il povero uomo doveva essere ancora più impicciato e più sbigottito di lei e che il partito potrebbe parer molto buona anche a lui e glielo veniva a proporre trovato lo con perpetua fece la proposta a tutte e due che ne dite perpetua domandò don abbondio dico che è un'ispirazione del cielo e che non bisogna perdere tempo e mettersi la strada tra le gambe e poi e poi e poi quando saremo là ci troveremo ben contenti quel signore ora si sa che non vorrebbe altro che far servizi al prossimo e sarà ben contento anche lui di ricoverarci là sul confine e così per aria soldati non ne verrà certamente e poi e poi ci troveremo anche da mangiare che superi monti finita questa poca grazia di dio e così dicendo l'accomodava nella gerla sopra la biancheria ci saremmo trovata mal partito convertito è convertito davvero è che c'è da dubitarne ancora dopo tutto quello che si sa dopo quello che anche lei ha veduto e se andassimo a metterci in gabbia che gabbia con tutti i codesti i suoi casi mi scusi non si verrebbe mai a una conclusione brava agnese ve proprio venuto un buon pensiero e messa la gerla su un tavolino passò le braccia nelle cigne e la prese sulle spalle non si potrebbe disse don abbondio trovare qualche uomo che venisse con noi per far la scorta al suo curato se incontrassimo qualche birbone che purtroppo ce in giro parecchi che aiuto mi avete a dar voi altre un'altra per perdere tempo esclamò perpetua andarla a cercare ora l'uomo che ognuna da pensare a fatti i suoi animo vada prenderli breviare il cappello e andiamo don abbondio andò tornò di lì a un momento col breviario sotto il braccio col cappello in capo e col suo bordone in mano e uscirono tutte e tre per un usciolino che metteva sulla piazzetta perpetua richiuse più per non trascorare una formalità che per fede che avesse in quella toppa e in quei battenti e mise la chiave in tasca don abbondio diede nel passare un'occhiata alla chiesa e disse tra i denti al popolo tocca custodirla che serva a lui se hanno un po di cuore per la loro chiesa ci penseranno se poi non hanno cuore tal sia di loro presero per i campi zitti zitti pensando ognuna casi suoi e guardandosi intorno specialmente da un abbondio se apparisse qualche figura sospetta qualcosa di straordinario non si incontrava nessuno la gente era o nelle case a guardarle a far fagotto a nascondere o per le strade che conducevano direttamente all'altura dopo aver sospirato e risospirato e poi lasciato scappare qualche interiezione don abbondio cominciò a brontolare più di seguito se la prendeva col duca di never che avrebbe potuto stare in francia a godersela a fare il principe e voleva essere duca di mantova a dispetto del mondo con l'imperatore che avrebbe dovuto aver giudizio per gli altri lasciar correre l'acqua all'ingiù non istar su tutti i puntigli che finalmente lui sarebbe sempre stato l'imperatore fosse duca di mantova tizio sempronio l'aveva principalmente col governatore al cui sarebbe toccato a far di tutto per tener lontani i flagelli dal paese ed era lui che ce li attirava tutto per il gusto di far la guerra bisognerebbe diceva che fossero qui quei signori a vedere a provare che il gusto è hanno da rendere un bel conto ma intanto ne va di mezzo chi non c'ha colpa lascio un po star con questa gente che già non sono quelli che ci verranno aiutare diceva perpetua codeste mi scusi sono di quelle sue solite chiacchiere che non concludo nulla piuttosto quel che mi dà noia cosa c'è perpetua la quale in quel pezzo di strada aveva pensato con comodo al nascondimento fatto in furia cominciò a lamentarsi d'aver dimenticata la tal cosa d'aver mal riposta la tal altra qui d'aver lasciata una traccia che poteva guidare i ladroni la brava disse don abbondio ormai sicuro della vita quanto bastava per poter angustiarsi della roba brava così avete fatto dove avevate la testa come esclamò perpetua fermandosi un momento su due piedi e mettendo i pugni sui fianchi in quella maniera che la gerla glielo permetteva come verrà ora a farmi codesti rimproveri quando era lei che me la faceva andar via la testa invece d'aiutarmi e farmi coraggio ho pensato forse più alla roba di casa che alla mia non ho avuto chi mi desse una mano ho dovuto far da marta e maddalena se qualcosa andrà male non so cosa mi dire ho fatto anche più del mio dovere agnese interrompeva questi contrasti entrando anche lei a parlare dei suoi guai e non si rammaricava tanto dell'incomode del danno quanto di veder svanita la speranza di riabbracciar presto la sua lucia che se vi rammentate era appunto quell'autunno sul quale avevano fatto assegnamento ne era da supporre che donna prassede volesse venire a villeggiare da quelle parti in tali circostanze piuttosto ne sarebbe partita se ci si fosse trovata come facevano tutti gli altri villeggianti la vista dei luoghi rendeva ancora più vivi quei pensieri d'agnese e più pungente il suo dispiacere usciti da sentieri avevano presa la strada pubblica quella medesima per cui la povera donna era venuta riconducendo per così poco tempo a casa la figlia dopo aver soggiornato con lei in casa del sarto e già si vedeva il paese andremo bene a salutare quella brava gente disse agnese e anche a riposare un pochino che di questa gerla io comincio ad averne abbastanza e poi per mangiare un boccone disse perpetua con il patto di non perder tempo che non siamo in viaggio per divertimento concluse don abbondio furono ricevuti a braccia aperte e veduti con gran piacere rammentavano una buona azione fate del bene a quanti più potete dice qui il nostro autore e vi seguirà tanto più spesso di incontrare devisi che vi mettono allegria agnese nell'abbracciare la buona donna diede in un tirotto pianto che le fu d'un gran sollievo e rispondeva con singhiozzi alle domande che quelle il marito le facevano di lucia sta meglio di noi disse don abbondio e a milano fuor dei pericoli lontana da queste diavolerie scappano è il signor curate la compagnia disse il sarto sicuro rispose era una voce il padrone e la serva li compatisco siamo incamminati disse don abbondio al castello di l'hanno pensata bene sicuri come in chiesa e qui non hanno paura disse don abbondio dirò signor curato propriamente in ospitazione come lei sa che si dice a parlar bene qui non dovrebbero venire coloro sia troppo fuori della loro strada grazie al cielo al più al più qualche scappata che dio non voglia ma in ogni caso c'è tempo sanno a sentir prima altre notizie da poveri paesi dove anderanno a fermarsi si concluse di starli un poco a riprender fiato e siccome era l'ora del desinare signori disse il sarto devono onorare la mia povera tavola alla buona ci sarà un piatto di buon viso perpetua disse ad aver con sé qualcosa da rompere il digiuno dopo un po di cerimonie da una parte e dall'altra si venne appatti da cozzar come si dice il pentolino e di desinare in compagnia i ragazzi si erano messi con gran festa intorno ad agnese e loro amica vecchia presto presto il sarto ordinò una bambina quella che aveva portato quel boccone a maria vedova chissà se venne rammentate più che andasse a diricciar quattro castagne primaticce che erano riposte in un cantuccio e le mettesse a arrostire e tu disse al ragazzo va nell'orto a dare una scossa al pesco da farne cadere quattro e portale qui tutte beh e tu disse a un altro va sul fico a coglierne quattro dei più maturi già lo conoscete anche troppo quel mestiere lui andò a spillare una sua botticina la donna a prendere un po di biancheria da tavola perpetua cavò fuori le provisioni s'apparecchiò un tovagliolo e un piatto di maiolica al posto d'onore per don abbondio con una posata che perpetua aveva nella gerla si misera a tavola e desinarono se non con grande allegria almeno con molta più che nessuno dei commensali si fosse aspettato d'averne in quella giornata cosa ne dice signor curato d'uno scombussolamento di questa sorte disse il sarto mi par di leggere la storia dei mori in francia e cosa devo dire mi doveva cascare addosso anche questa però hanno scelto un buon ricovero riprese quello chi diavolo ha a andarla su per forza e troveranno compagnia che già si è sentito che ci si sia rifugiata molta gente e che ne arrivi tuttora voglio sperare disse don abbondio che saremo ben accolti lo conosco quel bravo signore e quando ho avuto un'altra volta l'onore di trovarmi con lui fu così compito e a me disse agnese mi ha fatto dire dal signor monsignor illustrissimo che quando avessi bisogno di qualcosa bastava che andassi da lui gran bella conversazione riprese don abbondio e si mantiene è vero si mantiene il sarto si mise a parlare alla distesa della santa vita dell'innominato e come dall'essere il flagello dei contorni era divenuto l'esempio e il benefattore e quella gente che teneva con sé tutta quella servitù riprese don abbondio il quale ne aveva più di una volta sentito dire qualcosa ma non era mai quieto abbastanza sfrattati la più parte rispose il sarto e quelli che sono rimasti ha mutato sistema ma come insomma è diventato quel castello una tebaide lei le sa queste cose entrò poi a parlare con agnese della visita del cardinale grand'uomo diceva grand'uomo peccato che sia passato di qui così in furia che non ho neanche potuto fargli un po d'onore quanto sarei contento di poterli parlare un'altra volta un po' più con comodo alzati poi da tavola le fece osservare una stampa rappresentante il cardinale che teneva attaccata a un battente d'uscio in venerazione del personaggio e anche per poter dire a chiunque capitasse che non era somigliante già che lui aveva potuto esaminare da vicino e con comodo il cardinale in persona in quella medesima stanza l'hanno voluto far lui con questa cosa qui disse agnese nel vestito li somiglia ma è vero che non somiglia disse il sarto lo dico sempre anch'io noi non ci ingannano è ma se non altro c'è sotto il suo nome è una memoria don abbondio faceva fretta il sarto si impegnò di trovare un baroccio che li conducesse a piede la salita non andò subito in cerca e poco dopo tornò a dire che arrivava si voltò poi a don abbondio e gli disse signor curato se mai desiderasse di portarla su qualche libro per passare il tempo da pover uomo posso servirla che anch'io mi diverto un po a leggere cose non da par suo libri in volgare ma però grazie grazie rispose don abbondio son circostanze che si ha appena testa ad occuparsi di quel che è di precetto mentre si fanno e si ricusano ringraziamenti e si barattano saluti e buoni auguri inviti e promesse di un'altra fermata al ritorno il baroccio è arrivato davanti all'uscio di strada ci mettono le gerle salgono su e principiano con un po più d'agio e di tranquillità d'animo la seconda metà del viaggio il sarto aveva detto la verità a don abbondio intorno all'innominato questo dal giorno che l'abbiamo lasciato aveva sempre continuato a far ciò che allora si era proposto compensare danni chieder pace soccorrer poveri sempre del bene insomma secondo l'occasione quel coraggio che altre volte aveva mostrato nell'offendere nel difendersi ora lo mostrava nel non fare nell'una cosa nell'altra andava sempre solo e senza armi disposto a tutto quello che gli potesse accadere dopo tante violenze commesse e persuaso che sarebbe commetterne una nuova l'usare la forza in difesa di chi era debitore di tanto e a tanti persuaso che ogni male che li venisse fatto sarebbe un'ingiuria riguardo a dio ma riguardo a lui una giusta retribuzione e che dell'ingiuria lui meno d'ogni altro aveva diritto di farsi punitore con tutto ciò era rimasto non meno inviolato di quando teneva armate per la sua sicurezza tante braccia e il suo la rimembranza dell'antica ferocia e la vista della mansuetudine presente una che doveva aver lasciati tanti desideri di vendetta l'altra che la rendeva tanto agevole cospiravano invece a procacciarli e a mantenerli un'ammirazione che li serviva principalmente di salvaguardia era quell'uomo che nessuno aveva potuto umiliare e che si era umiliato da sé i rancori irritati altre volte dal suo disprezzo e dalla paura degli altri si dileguavano ora davanti a quella nuova umiltà gli offesi avevano ottenuta contro ogni aspettativa e senza pericolo una soddisfazione che non avrebbero potuta promettersi dalla più fortunata vendetta la soddisfazione di vedere un tal uomo pentito dei suoi torti e partecipe per dir così della loro indegnazione molti il cui dispiacere più amare più intenso era stato per molti anni di non veder probabilità di trovarsi in nessun caso più forti di colui per ricattarsi di qualche gran torto incontrandolo poi solo disarmato e in atto di chi non farebbe resistenza non si erano sentiti altri impulso che di fargli dimostrazione d'onore in quell'abbassamento volontario la sua presenza e il suo contegno avevano acquistato senza che lui lo sapesse un non so che di più alte di più nobile perché ci si vedeva ancora meglio di prima la non curanza ad ogni pericolo gli odi anche i più rozzerrabbiosi si sentivano come legati e tenuti in rispetto dalla venerazione pubblica per l'uomo penitente e benefico questa era tale che spesso quell'uomo si trovava impicciata a schermirsi dalle dimostrazioni che gliene venivano fatte e doveva stare attenta a non lasciar troppo trasparire nel volte negli atti il sentimento interno di compunzione a non abbassarsi troppo per non essere troppo esaltato sarà scelto nella chiesa l'ultimo luogo e non c'era pericolo che nessuno glielo prendesse sarebbe stato come usurpare un posto d'onore offender poi quell'uomo o anche trattarlo con poco riguardo poteva parere non tanto un insolenza un'aviltà quanto un sacrilegio e quelli stessi a cui questo sentimento degli altri poteva servir di ritegno ne partecipavano anche loro più o meno così quell'uomo sul quale se fosse caduto sarebbero corsi a gara grandi e piccoli a calpestarlo messosi volontariamente a terra veniva risparmiato da tutti e inchinato da molti è vero che erano anche molti a cui quella strepitosa mutazione dovette far tutt'altro che piacere tanti esecutori stipendiati di delitti tanti compagni nel delitto che perdevano una così gran forza sulla quale erano avvezzi a fare assegnamento che anche si trovavano a un tratto rotti fili di trame ordite da un pezzo nel momento forse che aspettavano la nuova dell'esecuzione ma già abbiamo veduto quali diversi sentimenti quella conversione facesse nascere negli sgherri che si trovavano allora con lui e che la sentirono annunziare dalla sua bocca stupore dolore abbattimento stizza un po di tutto fuorché disprezzo ne odio lo stesso accade agli altri che teneva sparsi in diversi posti lo stesso a complici di più alta affare quando riseppero la terribile nuova e a tutti per le cagioni medesime molto odio ne venne piuttosto al cardinal federico riguardavano questo come uno che si era mischiato nei loro affari per guastarli l'innominato aveva voluto salvar l'anima sua nessuno aveva ragione di lagnarsene di mano in mano poi la più parte degli sgherri di casa non potendo accomodarsi alla nuova disciplina né vedendo probabilità che s'avesse a mutare se ne erano andati ma quando al calar delle bande alemanne alcuni fuggiaschi di paesi invasi o minacciati capitarono su al castello a chiedere ricovero l'innominato tutto contento che quelle sue mura fossero cercate come asilo da deboli che per tanto tempo le avevano guardate da lontano come un enorme spauracchio accolse quelli sbandati con espressioni piuttosto di riconoscenza che di cortesia fece sparger la voce che la sua casa sarebbe aperta a chiunque ci si volesse rifugiare e pensò subito a mettere non solo questa ma anche la valle in stato di difesa semmai lanzichennecchio cappelletti volessero provarsi di venirci a far delle loro radunò i servitori che gli erano rimasti pochi e valenti come i versi di torti fece loro una parlata sulla buona occasione che dio dava a loro e a lui di impiegarsi una volta in aiuto del prossimo che aveva tanto oppresso e spaventato e con quel tono naturale di comando che esprimeva la certezza dell'ubbidienza annunziò loro in generale ciò che intendeva che facessero e soprattutto prescrisse come dovessero contenersi perché la gente che veniva a ricoverarsi lassù non vedesse in loro che amici e difensori fece poi portar giù da una stanza a tetto l'armi da fuoco da taglio in asta che da un pezzo stavano lì ammucchiate e gli distribui fece dire ai suoi contadini e affittuari della valle che chiunque si sentiva venisse con armi al castello a chi non aveva ne diede scelse alcuni che fossero come ufficiali e avessero altri sotto il loro comando assegnò i posti alle intrature e in altri luoghi della valle sulla salita alle porte del castello stabilì l'ore e i modi di dar la muta come in un campo o come già si era costumato in quel castello medesimo nei tempi della sua vita disperata in un canto di quella stanza a tetto c'erano in disparte l'armi che lui solo aveva portate quella sua famosa carabina moschetti spade spadoni pistole coltellacci pugnali per terra o appoggiata al muro nessuno dei servitori le toccò ma concertarono di domandare al padrone quali voleva che li fossero portate nessuna rispose e fosse voto fosse proposito resto sempre disarmato alla testa di quella specie di guarnigione nello stesso tempo aveva messo in moto altri uomini e donne di servizio suoi dipendenti a prepararne il castello alloggio a quante più persone fosse possibile a rizzarletti a disporre sacconi e nelle stanze nelle sale che diventavano dormitori e aveva dato ordine di far venire provvisioni abbondanti per ispesare gli ospiti che dio gli manderebbe e i quali infatti andavano crescendo di giorno in giorno lui intanto non stava mai fermo dentro e fuori del castello su e giù per la salita in giro per la valle a stabilire a rinforzare a visitar posti a vedere a farsi vedere a mettere a tenere in regola con le parole con gli occhi con la presenza in casa per la strada faceva accoglienza a quelli che arrivavano e tutti o lo avessero già visto o lo vedessero per la prima volta lo guardavano estatici dimenticando un momento i guai e i timori che gli avevano spinti lassù e si voltavano ancora a guardarlo quando staccatosi da loro seguitava la sua strada